Dopo il successo di Villa Fastigi e recentemente di Catabriglia, che hanno svolto entrambi una bellissima programmazione semestrale, ora il quartiere 9, Tombaccia, Soria, Fabreccia, ha la possibilità di dimostrare con un programma che è stato selezionato da una giuria molto qualificata, le proprie potenzialità con un bonus di programmazione di 15.000 euro che l'amministrazione mette a disposizione per un anno di programma, insieme a quello che con le associazioni, con i privati, con la partecipazione delle imprese sono riusciti a mettere insieme come compartecipazione di sponsor, perché ovviamente era un elemento premiante rispetto agli altri progetti. Un progetto di cui siamo molto felici perché si centra sulla musica, sulla musica legata anche all'accessibilità, associazione capofila e libera musica che abbiamo conosciuto da tempo. Non sarà l'unico soggetto, il Teatro Accademia, anche la Ginestra del San Bartolo, insomma la Fondazione Setacea, hanno fatto sistema delle migliori realtà che operano all'interno del territorio in tutto il periodo dell'anno e anche altri che magari riusciranno a regregarlo. Quindi complimenti al quartiere vincitore, complimenti anche a quelli che hanno partecipato senza vincere questa volta, perché il bando è molto complicato e selettivo, proprio perché vuole essere anche una crescita del sistema culturale della città, e sicuramente abbraccerà a parte del percorso di avvicinamento la capitale italiana della cultura, quella grande diciamo, 2024. Avevamo speranze, ma non eravamo ovviamente certi di questa vittoria, che ci esalta e ci stimola a lavorare e a fare anche qualcosa di più di quello che abbiamo promesso.